Ben trovati nell'angolo dello sport. Domani Pescara-Genova. Intanto c'è da dire che nell'anticipo di Serie A di ieri sera la Juventus ha battuto il Palermo per 4 reti a 1. Quindi non si muove la classifica in basso. Adesso bisogna attendere soltanto i risultati del Crotone, del Pescara e dell'Empoli per vedere se si aprono degli spiragli per il Pescara in caso di vittoria sul Genova. C'è molta attesa per questa partita, soprattutto per il fatto che in panchina ci sarà per la prima volta Zeman che ripropone il suo classico 4-3-3. Intanto abbiamo già captato dai primi movimenti dei segnali importanti per come giocherà la squadra di Zeman. Intanto ha detto che tornerà, sarà confermato in porta a Bizzarri anche se lui vede di buon occhio il giovane rincalzo perché dice che Bizzarri deve poter avere la possibilità di poter continuare in questo momento per dare anche una certa sua tranquillità alla difesa. Però non è detto che venga confermato. Nella difesa invece, partendo sempre da destra, Zampano, Bovo come centrale, Coda e Biraghi. Però Coda c'è un punto interrogativo e quindi potrebbe giocare Fornasier. Quindi Zampano, Bovo, Coda, Biraghi oppure Zampano, Bovo, Fornasier, e Biraghi. Il centrocampo non ci sono problemi. Verre, Brugman e Memucciai. Per quanto attiene invece i tre dell'attacco, l'unico sicuro certo è Caprari che giocherà al centro, però poi ai lati potrebbe esserci o Castanos con Ben Ali dall'altro lato oppure Mitrizza con Ben Ali sempre dall'altro lato. Dicevo è una partita particolare, una partita che i tifosi aspettano una certa ansia perché vorrebbero vedere un nuovo clima, un nuovo modo di giocare soprattutto. Però c'è un interrogativo adesso. Come reagirà la tifoseria organizzata che ha promesso di essere fuori dallo stadio, di contestare il Presidente dall'esterno? Oppure vista la nuova situazione decideranno invece di entrare? E se entrano nello stadio? Entrano facendo una sorta di coreografia contro il Presidente oppure accetteranno questo nuovo corso e diranno ok, la volontà ce l'ha messa, vediamo un po' di sostenerli. È una domanda molto difficile alla quale io in questo momento non so dare risposta perché dovrei stare nell'animo e nella la mente dei tifosi organizzati. Parlando di tifosi, domani ci saranno degli ospiti e mi auguro che saranno accolti quantomeno con una certa simpatia, quantomeno senza ostilità. Parlo del Genoa Club Adriatico. È un club che è stato costituito a Pescara che ha dei soci di tutto l'Abruzzo che sono appassionati del Genova. Il Presidente Fabrizio Utili è uno dei soci, uno del comitato direttivo, diciamo è Maurizio Festa, quindi mi ha detto proprio Maurizio che domani ci sarà lo striscione nella curva loro riservata e si auguro che tutto vada per il meglio. Certo il Genoa di oggi è l'avversario più giusto per il Pescara perché il Pescara ferito, tra virgolette, trova un avversario altrettanto ferito. Immaginate che nelle ultime 6-7 partite ha fatto pochissimi punti, poi mancheranno due o tre elementi molto importanti nel Genoa che ha soltanto 25 punti in classifica. Oddio, sembrano tanti in riferimento ai nostri 9 punti, però sono davvero poca cosa. Va bene, auguriamoci che tutto vada per il meglio. Un affettuoso abbraccio da Gianni Lussoso, come sempre, un ringraziamento al regista, all'amico e collega Leo Di Blasio. Appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.